Conte ha creato una mentalità, ha creato una squadra, per cui la Juve è sicuramente la squadra da battere ed è sicuramente la squadra più forte del campionato. Perché con il rigardo Antonio, che è anche un amico, gli faccio l'imbocca al lupo. Io penso che per il bene del calcio italiano, se Conte riuscisse a diventare, lo spero, menatore della nazionale, sarebbe molto importante per tutti noi. Perché so come lavora, so la sua mentalità, so come potrebbe far crescere i giovani che convocherà il nazionale, per cui il mio augurio è che Conte diventi l'allenatore della nazionale. Insomma, questo è proprio un vero endorsement in Zaghi a favore di Conte, nuovo commissario tecnico della nazionale, che sarà la prima decisione che dovrà prendere il nuovo presidente federale. Dovranno attendere di più invece i tifosi della Juventus, Massimiliano Allegri, per rivedere di nuovo al lavoro pienamente recuperato. Alvaro Morata, che ricordiamo è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento di lunedì. Sottoposto a risonanza magnetica, ecco cos'hanno confermato gli accertamenti. Lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La prognosi per il completo recupero è appunto di 50 giorni. Dunque, con l'infortunio di Morata, la Juventus dovrà, quanto prima, correre ai ripari sul mercato. Prende dunque sempre più corpo l'idea Romelu Lukaku per l'attacco della Juventus. Queste erano immagini che si riferivano proprio stamattina a Massimiliano Allegri, che consola il giocatore alle prese con il tutore. Dicevamo del mercato, Juventus che torna forte su Lukaku. La decisione su come agire per rinforzi in attacco arriverà a breve. Ma intanto la Juve ha avviato contatti informativi per l'attaccante belga in uscita dal Chelsea. Lukaku piace ai dirigenti bianconeri ed è un nome concreto. Su di lui c'è anche il Wolfsburg che sta cercando una prima punta.